Musica Buona giornata, ben trovati a questa edizione delle 14 di Ultima TG Lo avete sentito già, le titoli di copertina apriamo con la cronaca che ci porta a Messina nello specifico a Barcellona Pozzo di Gotto dove la polizia ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari a carico di 8 amministratori e funzionari sia in carica che non più in servizio al comune di Barcellona Pozzo di Gotto è intervenuto anche il sindaco Matera che ha detto ho fiducia nella magistratura ma sentiamo meglio nel servizio di Carmen Di Per Bufera al comune di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina per l'inchiesta che ha coinvolto il sindaco, un ex assessore e dipendenti del municipio a seguito della lunga e articolata indagine eseguita dai poliziotti del commissariato della città del Longano il GIP della locale procura Fabio Gugliotta ha iscritto nel registro degli indagati ed emesso misure cautelari e interdittive per i reati a vario titolo di concussione, induzione in debita di dare o promettere utilità, abuso d'ufficio è falso sottoposto al divieto di dimora e di ingresso nel comune di Barcellona il primo cittadino Roberto Materia mentre si sono aperte le porte del carcere per l'ex assessore allo sport Angelo Coppolino il deus ex macchina della vicenda per Carmelo Rucci funzionario dell'ufficio tecnico edilizia privata sono scattati invece gli arresti domiciliari, sospensione da ogni ufficio per Salvatore Di Pietro vice comandante della polizia municipale, i tecnici comunali Francesco Livoti e Giuseppe Bonomo per l'ex segretario generale Santi Alligo l'obbligo di dimora nel comune di residenza il divieto di esercitare la professione di architetto per sei mesi per Bruno Isgro l'attività investigativa coordinata dal procuratore capo Emanuele Crescenti e dal sostituto Matteo De Micheli è stata avviata nel 2014 Coppolino approfittando della sua posizione di componente della giunta comunale insieme ad alcuni suoi familiari aveva compiuto delle pressioni che riguardavano immobili a lui riconducibili dagli approfondimenti si è compreso che l'assessore attraverso i tecnici e gli amministratori compiacenti voleva occultare delle macroscopiche difformità e i conseguenti illeciti edilizi il sindaco Materia è entrato nel caso per l'abuso compiuto nei confronti dell'allora comandante dei vigili urbani Di Pietro per averlo revocato illegittimamente dall'incarico Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Catania ha arrestato quattro persone accusate di associazione a delinquire finalizzata la spedita di banconote false il provvedimento ha colpito quale capo dell'organizzazione ladranese Antonino Liote e altri tre soggetti per i quali è stata disposta la misura degli arresti domiciliari L'attività investigativa svolta dai finanzieri del gruppo di Caltagirone ha messo in luce l'esistenza del sodalizio criminale dedito alla spedita di false banconote da 100 euro nel circuito nazionale garantendosi illeciti e reiterati guadagni in danno di ignari commercianti grazie alle intercettazioni telefoniche sono state ricostruite le varie fasi attraverso le quali gli indagati spacciavano le banconote false nei territori di numerose province Catania, Messina, Caltanissetta, Grigento, Siracusa, Cosenza, Vibo Valencia, Catanzaro, Reggio Calabria, Bari, Taranto, Lecce e Brindesi presso diversi piccoli esercizi commerciali quali negozi di ceramica, artistica, ferramenta, lavasecco, enoteche ottici e tanti altri prediligendo quelli privi di dispositivi di controllo delle banconote o di impianti di videosorveglianza adesso andiamo a Palermo, dicevamo prima in copertino una giornata ricca a Palermo per le emergenze iniziamo proprio da quella abitativa, sono salite a 17 il numero delle famiglie che hanno occupato l'ex hotel Elena alla stazione centrale, noi siamo andati sul posto e ci hanno aperto le porte raccontando la loro storia per noi c'è la Manuela Zummo Gabriele tu sei uno dei capi famiglia che ha deciso di occupare uno dei appartamenti qui all'hotel Elena ma come vai? Allora noi abbiamo visto il servizio tramite le Iene, siccome siamo famiglie disagiate ci siamo riuniti con altre famiglie come noi, abbiamo deciso di occupare noi innanzitutto vogliamo fare capire al comune che esistiamo anche noi come famiglie disagiate abbiamo bisogno di un tetto, qualunque cosa loro ci offrono noi andiamo via di qui non abbiamo toccato nemmeno un chiodo, come vedete c'è tutto sistemato, tutto pulito e tutto messo in ordine mi sono occupato, a Palermo il lavoro non ce n'è, io sono qui con la mia compagna che è incinta di 9 mesi la storia di Gabriele è la storia delle tante famiglie che a Palermo decidono di occupare immobili abusivamente attualmente all'interno dell'hotel Elena di piazza Giulio Cesare si trovano 17 famiglie hanno occupato l'ex hotel martedì sera, altri si sono aggiunte ieri sono venuti a conoscenza del caso, come ci ha raccontato Gabriele, tramite il servizio della trasmissione le Iene che denunciava il fatto che l'hotel di proprietà dell'ex magistrato giusto Sciacchitano era stato sequestrato perché non in regola nonostante infatti la mancanza delle necessarie autorizzazioni continuava ad affittare le camere abusivamente un abusivismo nell'abusivismo dunque le famiglie che hanno occupato i mini appartamenti arrivano da Ballarò, da Corso dei Mille e da Brancaccio alcuni di loro vivevano in auto o in casa in cui non potevano più pagare l'affitto tra le famiglie ci sono anche una ventina di bambini piccolissimi, donne incinte e un ragazzo disabile intanto al momento sono 750 a Palermo le famiglie che hanno occupato abusivamente immobili l'emergenza abitativa in città sembra essere diventata ormai una vera e propria piaga sociale come diceva bene l'emergenza abitativa possiamo considerarla cronicizzata per cui oggi noi abbiamo oltre 2200 famiglie in gradatoria di emergenza abitativa oltre 750 famiglie senza casa che non avendo avuto nessuna risposta dalle istituzioni hanno da sé occupato immobili di proprietà pubblica abbandonati abbiamo oltre 500 persone tra queste alcune famiglie costrette a vivere totalmente per strada Ancora cronaca e restiamo a Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 210.000 tra giocattoli e articoli per bambini pronti per essere immessi sul mercato perché non conformi alla normativa che richiede alcune indicazioni obbligatorie a tutela della salute dei bambini nel corso delle attività di controllo economico del territorio svolto per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti sulla tutela dei marchi registrati le fiamme gialle hanno individuato un esercizio commerciale gestito da una società in cui erano in vendita prodotti di varia tipologia e provenienza a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli normalmente praticati nel settore si trattava per la grande maggioranza di giocattoli privi del marchio di conformità alle normative europee ma anche di beni aventi marchi contraffatti molti altri prodotti sono stati scoperti nel deposito di stoccaggio al piano interrato in uno stato di completo abbandono sparpagliate alla rinfusa in condizioni tutt'altro che salubri di fronte a questa situazione di pericolo per la salute dei clienti ma soprattutto per i bambini i finanzieri hanno proceduto immediatamente al sequestro un'altra operazione dei carabinieri di Palermo dove appunto si è recato il responsabile della filiale OVS di via Cordova per presentare una denuncia per furto avvenuto nel mese di novembre scorso gli accertamenti dei militari iniziati immediatamente anche con la collaborazione di personale della società di investigazione privata del centro commerciale hanno consentito di appurare che i prodotti venivano venduti su un sito di annunci online dopo aver ottenuto un decreto di perquisizione i carabinieri sono andati nell'abitazione dove pensavano di trovare la refurtiva e così è stato sono ben 400 i prodotti in particolare cosmetici recuperati dai militari sempre nella stessa abitazione i militari hanno trovato anche 50 oggetti tra borse e capi di abbigliamento tutti con marchi contraffatti posti in commercio mediante la stessa piattaforma digitale la merce dell'OVS previa lettura del lettore ottico appartiene tutta ad eccezione dei soli 4 oggetti all'otto trafugato lo scorso anno la donna, una 48enne palermitana dovrà rispondere dei reati di ricettazione e possesso per la vendita con marchi contraffatti noi adesso cambiamo argomento dicevamo, parliamo di un'altra emergenza abbiamo parlato prima di quella abitativa ora parliamo dell'emergenza idrica che da giorni e da settimane riguarda Palermo il rischio turnazione è ancora a livelli massimi noi stamattina abbiamo chiesto ai palermitani cosa ne pensano per noi Roberto Chifari la pioggia riempie gli invasi ma non abbastanza per evitare la turnazione idrica la regione ieri ha diffuso una nota disponendo che l'approvvigionamento di acqua dei quattro invasi che riforniscono Palermo scenderà da 2400 litri al secondo a 1.900 una diminuzione di pressione che potrebbe portare al razionamento idrico è un male antico legato anche a una disorganizzazione che non può imputarsi soltanto alle questioni atmosferiche naturalmente a cominciare le condutture dallo spreco d'acqua va affrontato in modo capillare e soprattutto partendo dalle cose banali che possono essere i tombini e le strade che per esempio diventano interi ed efficaci diciamo ruscelli nel momento in cui piove anche quelle sono questioni di vivibilità di raccolta dell'acqua in modo organico non è che manca a Palermo l'acqua solo che quest'acqua bisogna giustamente incanalarla nei posti dove deve andare l'acqua e questo lavoro secondo me non l'ha mai fatto nessuno quindi qua la cosa importante è che le persone che sono diciamo a chi di competenza mettersi veramente seriamente e vedere quali sono i problemi reali della città siamo arrivati come dire alla danza della pioggia in questa città io sono arrivata in questa città e ho vissuto la crisi idrica dei silos e dobbiamo ritornare ai silos perché cosa? Restiamo a Palermo continua la protesta degli ex sportellisti da anni chiedono la ricollocazione lavorativa la norma esiste ma non viene applicata Manuela Zumo Continua l'avvertenza degli ex sportellisti il mese scorso avete fatto una protesta sotto Palazzo d'Orleans con uno sciopero della fame ma si è giunti a una conclusione? Nonostante le promesse del Presidente Musumeci in tempi non sospetti ha dichiarato di voler risolvere questa questione che è facilmente risolvibile c'è una norma che avvierebbe immediatamente al lavoro e questi lavoratori che da quattro anni sono stati abbandonati e continuano a essere abbandonati da tutti La norma per consentire la firma di un nuovo contratto è già nero su bianco ma gli ex sportellisti, operatori della formazione, esperti in politiche del lavoro non si fidano per questo stamattina sono scesi nuovamente in piazza arrivando da tutte le province per manifestare con un sit-in partito davanti agli uffici dei centri dell'impiego di Via Praga per arrivare davanti all'assessorato alle politiche sociali per chiedere che finalmente dopo anni la loro vertenza possa trovare soluzione Il bacino interessato comprende circa 1500 persone che per anni hanno lavorato in azioni per promuovere l'occupazione come il famoso progetto degli sportelli multifunzionali da qui il termine sportellisti che oggi comunemente identifica questa platea ma da almeno tre anni queste persone sono disoccupate Chiedono dunque l'applicazione dell'articolo 13 della legge regionale numero 8 del 9 maggio 2017 che prevede l'utilizzo di tutti gli operatori ex sportellisti multifunzionali attraverso il ciapi di Priolo e in Teinaus della regione siciliana Siamo sempre occupati di disoccupati, di gente che è andata in cassa integrazione abbiamo fatto corsi per la cassa integrazione e adesso la cosa bella è che noi siamo stati in cassa integrazione siamo stati licenziati, abbiamo avuto tanti disagi e non c'è nessuno che ci può fare questi corsi perché il paradosso è che eravamo noi a fare questi corsi adesso la regione è in adempiente e noi non possiamo lavorare non ci fanno lavorare esistono anche delle linee di finanziamento sono attivate, esiste una legge regionale Adesso parliamo di una buona notizia 30 milioni per le piccole imprese e fondi europee a disposizione dell'imprenditoria siciliana una notizia positiva proprio nell'anno in cui la Sicilia aveva perso 380 milioni relativi al periodo fra il 2000 e il 2006 30 milioni a sostegno delle imprese che decidono di intraprendere la strada del rinnovamento pioggia di finanziamenti attraverso i fondi europei con l'avviso aiuti alle imprese esistenti accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale la regione siciliana sostiene medie piccole e micro imprese attraverso incentivi diretti per l'acquisizione di sistemi che consentano di raggiungere un upgrade tecnologico nei settori produttivi tradizionali le domande devono pervenire entro il 22 marzo gli investimenti sono finalizzati all'installazione di un nuovo stabilimento all'ampliamento di uno già esistente alla diversificazione della produzione all'aumento di prodotti e servizi alla realizzazione di opere murarie insomma per rinnovare la propria impresa le possibilità sono tante vanno sfruttate valgono 30 milioni di euro una buona notizia che segue di qualche giorno quella negativa di fine gennaio quando la Sicilia ha saputo che erano sfumate le possibilità di ricevere integralmente i finanziamenti dell'Unione Europea che aveva imposto un taglio ai fondi di circa 380 milioni a confermarlo era stata una sentenza del Tribunale Europeo che ha respinto il ricorso dell'Italia a causa di comprovati irregolarità e mancanza di controlli nella gestione del piano operativo regionale relativi al periodo fra il 2000 e il 2006 l'Europa toglie e l'Europa dà insomma l'importante per la Sicilia sempre di riuscire a sfruttare i contributi fino al 22 marzo ci sono altre 30 milioni di opportunità Adesso ci spostiamo a Catania per parlare di un parcheggio abbandonato è proprio il posteggio di Santa Maria della Catena che necessita di interventi urgenti per noi c'era Damiano Scala Parcheggio selvaggio e mobilità del centro storico di Catania una questione che da via Plebiscito fino a Piazza Dante solleva più di un interrogativo questo è il parcheggio di via Santa Maria delle Catene cuore del rione dei Cappuccini una struttura che associazioni e comitati cittadini chiedono di recuperare e di trasformarlo in un punto di aggregazione per i più piccoli visto che con la creazione del campus universitario al posto dell'attuale ospedale Vittorio Emanuele si avanzano ipotesi e si cercano soluzioni per evitare la paralisi in una parte di Catania piena di pendolari Per un principio proprio della mobilità sostenibile cioè di ridurre l'utilizzo dei mezzi privati è consigliabile che di arrivare in centro storico non con il mezzo proprio con la macchina di proprietà ma utilizzando i mezzi pubblici o in questo caso come a Catania ormai molti cittadini hanno capito di utilizzare la metropolitana per esempio quindi noi pensiamo che i parcheggi in alcuni casi sarebbe auspicabile posizionarli fuori dalla zona del centro storico ma in ambito periferico in maniera tale che il cittadino può parcheggiare la macchina e spostarsi con i mezzi pubblici la stessa cosa vale per il parcheggio di Santa Maria della Catena che nella fattispecie è un luogo piuttosto piccolo come spazio e che potrebbe diventare uno spazio verde uno spazio urbano di aggregazione sociale di grande valore anche per quel quartiere quindi più che inserire delle auto sarebbe auspicabile inserire degli spazi sociali e che potrebbe essere un giardino o un parco da utilizzare da parte dei cittadini Cambiamo argomento ma restiamo a Catania restyling per l'ospedale Cannizzaro che domani inaugurerà il centro gestione emergenza e nuovi reparti di neurologia utile unità spinale grazie alla convenzione siglata con il centro neurolesi Bonino Puleio di Messina per l'avvio di attività riabilitative un passo avanti per la sanità siciliana l'ospedale Cannizzaro di Catania inaugurerà domani il centro gestione emergenze e nuovi reparti di neurologia utile unità spinale grazie alla convenzione siglata con il Bonino Puleio di Messina per l'avvio di attività riabilitative reparti che sono strategici e nella rete dell'emergenza e per qualificare ulteriormente l'assistenza nel territorio nell'ambito dell'opera di riqualificazione e ristrutturazione dei nuovi locali il centro di gestione dell'emergenza avrà una sala di controllo altamente tecnologica che aumenterà la sicurezza dell'intero ospedale migliorare appunto la sicurezza e per i pazienti e per i lavoratori l'unità operativa di neurologia avrà nuovi posti letto così come la terapia intensiva che avrà otto nuovi posti letto in più la ciliegina sulla torta sarà la firma della convenzione con la fondazione Bonino Puleo consentirà di allargare l'offerta sanitaria per la neuro-riabilitazione per i pazienti colpiti da gravi cerebro-lesioni cambiamo decisamente argomento si infrange proprio all'ultimo gradino il sogno di Agrigento di diventare la capitale della cultura italiana 2020 vince invece Parma sentiamo Giuseppe Castaldo si infrange proprio all'ultimo gradino il sogno di Agrigento di diventare la capitale della cultura italiana 2020 inserita nella short list lo scorso gennaio insieme ad altre nuove città Agrigento sperava di conquistare l'ambito premio che sarebbe anche caduto in occasione dei 2600 anni dalla fondazione di Acragas all'unanimità invece il direttivo ha scelto Parma che ha saputo evidentemente più delle altre città trovare un giusto equilibrio tra innovazione ed elevata qualità della progettazione tanta delusione dunque per la città dei templi che quest'oggi era rappresentata presso la sede del MIBACT dal sindaco Calogero Firetto peccato per questa occasione dice il sindaco ma hanno vinto gli Agrigentini il loro impegno la voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo di sconfiggere l'ignavia la rassegnazione ha vinto il desiderio di provare insieme a immaginare un nuovo futuro ha vinto l'orgoglio ritrovato e questa mattina è stato presentato un progetto high tech lanciato dall'università di Catania per un progetto mirato all'identificazione dei migranti e la prevenzione di malattie infettive un prototipo realizzato dall'Ateneo e dai partner privati che sarà presto testato nel punto di sbarco del porto di Catania sentiamo Damiano Scala un tunnel modulare dotato di sensori che consentirà di velocizzare le procedure di identificazione dei migranti che sbarcano nei porti siciliani il progetto si chiama H&S Smart Gate l'iniziativa high tech lanciata dall'università di Catania il progetto ovviamente ha un doppio scopo quello di consentire la rapida identificazione e anche automatica dell'individuo senza il ricorso per esempio alle impronte digitali che spesso non sono solo complesse per l'esecuzione ma anche implicano una collaborazione da parte dell'individuo ma è importante anche per la identificazione e la diagnosi di eventuali malattie infettive che purtroppo spesso sono presenti in questi soggetti portatori di per esempio malattie virali e batteri che la tubercolosi ha una certa incidenza la scabbia e altre malattie quindi è un progetto importante del nostro Ateneo che sicuramente servirà a agevolare i flussi razionalmente e a prevenire malattie infettive importanti Il progetto prevede lo smart gate cioè una specie di tunnel elettronico entro il quale il migrante passa all'immediato arrivo sul territorio nostro catanese e viene intanto identificato identificato come? Voi sapete che tutti i migranti non hanno documenti di identità e neanche rivelano il loro nome quindi viene identificato con l'iride che è abbastanza preciso come identificazione e con la biometria del volto questa identificazione lo accompagnerà in tutto il percorso successivo nel nostro Stato e poi viene anche identificato dal punto di vista sanitario cioè viene visualizzato se ha delle malattie contagiose per i nostri cittadini per i nostri soggetti quindi si fa sorveglianza sanitaria si fa sorveglianza pubblica per la sicurezza nazionale credo che sia un progetto veramente di grande rilevanza è stato condiviso da diverse aziende private è un partenariato pubblico privato università aziende private più ministero della salute è un progetto che abbiamo presentato alla regione nel 2017 e speriamo che venga finanziato io penso che dovrebbe essere finanziato perché è veramente un progetto di altissimo livello e noi cambiamo decisamente argomento ve lo annunciavo già in copertina ci sono venuti a trovare all'interno dei nostri studi due graditi ospite ai quali do il benvenuto si tratta di Riccardo e Piero Ferlito intanto buongiorno e grazie per essere con noi buongiorno allora io vi presento però poi ovviamente parlerete voi Piero e Ferlito sono ovviamente Riccardo sono padre e figlio tutte e due con la grandissima passione della danza diciamo una passione appunto che è di padre in figlio ma anche all'interno della vostra famiglia ne parleremo anche con sua moglie e tua mamma ma la novità quella dalla quale partiamo è che Riccardo ha cominciato a ballare proprio a San Giorgio dove Piero ha una scuola di danza ma oggi ha avuto grandissimi successi ed è il primo siciliano dell'età di 16 anni, ora 17 a ballare proprio a Parigi allora intanto buongiorno grazie cominciamo proprio da questo cominciamo da Riccardo prego sì io ho iniziato a 4 anni a fare danza poi all'età di 12 anni sono andato nella scuola di Stoccarda in Germania sì poi l'anno scorso sono andato all'Opera di Parigi con la scuola è stato un sogno diventato realtà diciamo e a giugno di quest'anno andrò appunto al Bolshoi di Mosca e nel frattempo appunto Riccardo vediamo alcune immagini, alcuni video dei tuoi allenamenti allora Piero sicuramente da padre è una grandissima soddisfazione ma quella per qualsiasi genitore quando un figlio comunque raggiunge dei risultati così importanti però nel tuo caso, vi permetto di darti del tu è ancora una soddisfazione maggiore perché questa passione che si è tramandata da padre in figlio sì è una cosa bellissima poter condividere la stessa passione e quindi avere ottenuto questi risultati è stata una grandissima gioia è un grandissimo anche augurio per tutti gli altri ragazzi che vogliono intraprendere questa passione che poi si può trasformare in professione esatto, una passione dicevamo che poi nel vostro caso si è trasformato nel vostro lavoro che appartiene anche alla mamma e quindi a tua moglie sì, mia moglie anche lei è adesso una maestra di danza classica e insieme a San Giorgio coltiviamo questa passione e cerchiamo di trasferire questi valori artistici ai nostri allievi anche mia figlia balla pure lei infatti nel mese di giugno andrà a New York e quindi da San Giorgio è una bella cosa che dalla periferia ci sono anche questi risultati belli per il nostro quartiere Bene, Riccardo, allora è una grandissima soddisfazione ma cosa hai provato? Qual è stata l'emozione la tua prima volta in un palcoscenico così importante? Già solo entrare e guardare la platea e quel palco enorme è qualcosa di davvero indescrivibile la cosa bella è che prima in tutti gli allenamenti uno deve davvero impegnarsi allenare e tutto il resto però quando uno balla si dimentica tutto e balla semplicemente e si gode tutto Da un punto di vista tecnico come si diventa ballerini di questo livello? Soprattutto quante ore di allenamento occorrono? Ad esempio quest'anno io inizio a fare lezioni alle 9 del mattino fino alle 8 di sera o prove poi ovviamente dipende da persone che hanno meno cose da fare però io sono felice comunque di poter fare tante prove di poter ballare tanto Piero, a parte ovviamente la tecnica cosa insegni ai tuoi allievi? Intanto la prima cosa importante è insegnare il rispetto per gli altri amare gli altri perché noi che dobbiamo diffondere l'arte se non c'è quest'amore verso il pubblico, verso gli altri difficilmente si può diventare un artista vero e poi chiaramente c'è la disciplina molto rigida che secondo noi forma la loro personalità, il carattere e sicuramente diventeranno degli adulti migliori Riccardo, cosa provi ogni volta che torni a casa? Ovviamente a parte il piacere di tornare e di rivedere la tua famiglia Sicuramente io sono cresciuto qua quindi ogni volta che torno qua ricordo tutti i momenti passati però pensando al futuro io non credo di... Ora che vivo all'estero so che là comunque c'è un'altra mentalità, un'altra cultura e di conseguenza questa ormai è la mia vacanza non più il posto in cui starò Ecco appunto, proprio questo volevo sottolineare con te qual è la differenza da questo settore appunto rispetto da qui da Catania, da Sicilia, diciamo Italia e l'estero? Sicuramente c'è un'altra cultura, un'altra mentalità e mi dispiace perché noi in Italia, in Sicilia, a Catania abbiamo tantissimi teatri fantastici che però non vengono sfruttati al meglio secondo me quindi all'estero, in Germania soprattutto per chi vuole diventare un ballerino è davvero ottimo come posto perché là sono davvero serie vedono tutto professionalmente Ecco Piero appunto, ricollegandomi a quello che ha detto tuo figlio secondo la tua esperienza cos'è che manca qui, non solo a Catania ma anche in Sicilia? Anche io da giovane ho passato metà della mia vita della mia giovinezza all'estero adesso quando parto per vedere mio figlio per vedere anche altri allievi che ci ho sparso per l'Europa mi rendo conto di quello che noi non abbiamo cioè le infrastrutture che permettono l'affermarsi e il quello di come dire di puoi trovare anche delle possibilità poi concrete ecco delle opportunità di crescita e di confronto per esempio all'estero i giovani hanno tutto quello che noi qua manca sono magari teatri campi sportivi punti di aggregazione e quindi mi rendo conto che qua i giovani sono purtroppo lasciati a se stessi e con poche possibilità di emergere Hai detto una cosa io vado spesso in giro per il mondo da giovane ci andavo ma adesso per seguire mio figlio e anche altri allievi quindi dalla tua scuola ne sono uscite tanti Sì, già c'è un ragazzo che lavora all'opera di Helsinki una ragazza che lavora al Berlin Ballet un ragazzo che lavora a Dortmund in Germania una ragazza che lavora in Olanda altri ragazzi sono a Cannes Sì Quindi ce ne sono veramente tanti Sì, che sono usciti dal quartiere San Giorgio Esatto, questo lo sottolineiamo ancora Riccardo, prospettive future? Allora io in questo momento che sto a Stoccarda ovviamente come inizio sarebbe davvero fantastico iniziare là a lavorare però nel futuro magari non si sa poi adesso non ho diciamo le idee chiarissime ancora ho tanti sogni e quindi non so ancora dove sicuramente già essere stato a Parigi e a giugno andare a Mosca mi farà crescere anche artisticamente e poi chissà nel futuro se diventerà magari la mia compagnia Assolutamente, tanti sogni è giusto come è giusto che abbia un ragazzo di 17 anni Piero, sottolineami una cosa importante da San Giorgio comunque un quartiere di Catania poi lui, Riccardo, è andato a Parigi e andrà a Mosca ma sono tante le persone che appunto tu hai elencato quindi tutto è possibile Sì, tutto è possibile quindi questa è anche una prova che anche nei quartieri più disagiati si può raggiungere e far avverare i propri sogni con tante difficoltà con tanti sacrifici però basta crederci e essere guidati dalle persone giuste Assolutamente, questo è importantissimo è essenziale Riccardo, un consiglio già papà lo ha dato però un consiglio che tu vuoi dare a quanti vorranno vogliono intraprendere questa strada ma anche a quanti vorranno intraprendere un qualsiasi altra strada quindi credere nei loro sogni Sì, sicuramente io sono andato all'estero all'età di 12 anni quindi ovviamente ci sono stati quei momenti dove mi mancava la famiglia dove pensavo magari non è quello che voglio veramente però se uno davvero ama questa passione i sacrifici non sono così tanto pesanti e soprattutto mai arrendersi perché davvero lavorando si possono ottenere dei risultati ottimi Io ti ringrazio per quest'ultimo messaggio da Monito per tutti quanti per quanti appunto vogliono poi appunto i loro sogni bisogna sempre portarli avanti e realizzarli Io ringrazio Riccardo e Piero per essere stati nostri ospiti e naturalmente spero di potervi accogliere di nuovo per testimoniare ancora altri successi di Riccardo Io vi ringrazio e noi ci fermiamo per qualche breve istante di pubblicità Ci rivediamo per la seconda parte per parlare di sport e noi ci fermiamo per la seconda parte Amore, non dirgli neanche dopo anni che tutti i suoi regali ti hanno sempre fatto schifo E infatti siamo davanti al totem dei coupon così i regali te li fanno quelle zagre don Geni, mo che fa te lo sei sentito? E vedi, io sono come il coupon e ti regalo ogni giorno il mio affetto Bello Peccato che per questo regalo scontrino per il cambio non ce n'è Vi aspettiamo il negozio per conoscere la nostra professionalità e qualità dei prodotti Servolare 17 Largo De Vespri 6 Nicolosi Catania Petrovati parliamo di sport oggi il Catania è già in viaggio verso Monopoli tante le possibilità per Lucarelli che dovrà rilanciare Ripa nel ruolo di titolare grande domenica per Ultima TV con tre partite che saranno seguite da vicino con collegamenti diretti ci racconta tutto Marco Carli Monopoli vale molto non solo per la classifica perché i ross-azzurri riposeranno nel turno successivo previsto il 25 febbraio il Lecce dunque potrebbe portare un ulteriore allungo e il Catania deve evitare di fare altri favori ai Salentini detto che proprio in trasferta come dice la classifica dedicata agli etnei stanno facendo benissimo sono i migliori nel girone in tal senso con dieci punti conquistati nelle ultime quattro partite Monopoli non è un campo facile storicamente quattro pareggi e una vittoria per gli etnei firmata da una doppietta di scarsella nel settembre 2015 poi tre sconfitte i pugliesi dopo un avvio ovviamente e un periodo di flessione hanno ripreso a marciare undici punti nelle ultime cinque settimo posto in graduatoria insomma c'è da stare attenti ma è chiaro che il Catania se vuole provare a restare ancora in corsa per il primo posto deve fare benissimo perché la realtà è quella di un Lecce praticamente perfetto dunque vincere è l'unico obiettivo con Lucarelli che potrebbe rilanciare Ripa dal primo minuto Catania già in viaggio da oggi per la Puglia con la consueta tappa intermedia in Calabria il cuore a Monopoli dove saranno presenti anche i tifosi rossazzurri la mente a Catania dove giocherà il Lecce con la neanche tanto segreta speranza che i bianconeri dopo il gran successo di Catanzaro riescano a fare uno sgambetto alla capolista che è imbattibile in casa ma che in trasferta ha concesso qualcosa non molto per la verità come detto i Salentini vanno a mille ma a qualche punto lontano dal Via del Mare l'hanno perso e proprio al Massimino contro il Catania hanno conosciuto la loro unica sconfitta in campionato sarà una gran domenica anche per la programmazione di Ultima TV Monopoli-Catania e le Onze-Olecce saranno al centro della trasmissione Febbra 90 con collegamenti dai due stadi per le interviste post partita e da Catania per gli aggiornamenti nel consueto format che privilegia il live e il commento dell'evento mentre si svolge e subito dopo la sua conclusione Febbra 90 prenderà il Via alle 16.15 e vi terrà compagnia fin quasi a sera prima dalle 14.30 la diretta di Matera Siracusa in esclusiva sempre su Ultima TV per seguire tutto il calcio di Serie C domenica basta sintonizzarsi sul canale 87 adesso andiamo a Palermo dove questa mattina ha parlato il tecnico Bruno Tedino in visa della doppia trasferta a Perugia e Chiavari sentiamo domani il Palermo in trasferta a Perugia per ripartire il tecnico Rosanero dovrà rinunciare a coronato squalificato e sarà sostituito da Gnore in porta dovrebbe essere confermato a posa mentre in difesa toccherà a Raikovic il Perugia dovrebbe giocare con le ali in porta volta della Fiore Belmonte in difesa Delprete Gustafsson Bianco Bandinelli Piacic a centrocampo Cerri e Di Carmine unica punta Tedino invece ha qualche dubbio in più di formazione ma conferma il 3-5-2 con Bellusci Stuna Raikovic in difesa Rispoli ha l'esami sulle fasce Gnaurè Yaglielo Ciocev a centrocampo Nestorowski come unica punta che dovrebbe essere appoggiato da Moreo ma occhio all'agumine tra i coschi pronti a subentrare ne sia che comunque c'è stato anche uno spirito di reazione perché abbiamo avuto due palle gol sul 2-1 quindi se avessimo fatto gol con Nestorowski e avesse fischiato il rigore su un Jaure parleremo di una squadra che ha avuto attributi che ha avuto spirito di reazione nonostante fossimo in dieci è normale che un allenatore deve assolutissimamente a 360 gradi guardare quello che sta succedendo è normale che non stiamo vivendo dal punto di vista diciamo psicologico un momento positivo e secondo me quando arrivano questi momenti positivi non è che stiamo lavorando male nell'attuale ma magari abbiamo staccato un pochino la spina precedentemente abbiamo un pochino magari allentato la presa o comunque non siamo stati vigorosi cattivi energici come siamo stati fino diciamo al 28 29 di dicembre cambiamo argomento ma parliamo sempre di sport scattano domani sull'Etna i campionati europei di Winter Triathlon questa mattina la conferenza stampa a Nicolosi per noi la seguita Giovanni D'Antoni è tutto pronto a partire dalle 8 di domani lo spettacolare scenario dell'Etna delizierà gli appassionati delle discipline invernali con una kermess di primo ordine la ventesima edizione dei campionati europei di Winter Triathlon è pronta a scattare e ad attrarre migliaia di fan a giocarsi l'ambita competizione che si svolgerà interamente sul vulcano attivo più grande d'Europa oltre 70 atleti provenienti da tutto il continente in rappresentanza di 12 paesi questa mattina i vertici del mondo dello sport del Winter Triathlon insieme alle cariche amministrative dei comuni pedemontani si sono radunati nella sala consigliare del comune di Nicolosi per la conferenza stampa di presentazione prologo della kermess continentale chiaramente parteciperanno varie nazioni tra russi norvegesi inglesi molta partecipazione europea quindi vedranno quanto la Sicilia può offrire non solo di mare e di sole ma anche di montagna è una disciplina sicuramente non è la disciplina maggiormente fatta nella nostra federazione però è sicuramente una disciplina che ha un suo spazio e che quindi nel periodo dove non si può fare triathlon tradizionale sicuramente aiuta i nostri atleti a tenersi in forma fare dell'attività dopo mille peripezie causate chiaramente dalla mancanza di neve calcoliamo che fino a 20 giorni fa era primavera però ce l'abbiamo fatta la nostra montagna poi alla fine ci vuole sempre bene le persone hanno approfittato di questa gara anche per vedere i nostri luoghi meravigliosi e questo credo che sia la cosa più importante perché io dico sempre che lo sport è veicolo di turismo e così questa è la dimostrazione che si può fare turismo anche con i grossi eventi sportivi nessuno direbbe che abbiamo una pista da sci a Catania in Sicilia perché tutti leggono la Sicilia al sole in verità abbiamo anche questo tipo di offerte noi siamo ipercontenti di poterlo far vedere al mondo con una tappa così importante corsa bici e sci di fondo un trittico di discipline che coniuga resistenza abilità e intelligenza si parte domani alle 8 con le gare elite e under 23 uomini seguiranno le donne e poi le categorie junior a chiudere il programma sarà poi la volta della cerimonia conclusiva della manifestazione con le premiazioni di rito atleti da tutta Europa alcuni di questi pluri premiati anche in ambito internazionale saranno in corsa per la triplice gara evento che gli organizzatori sperano possa portare lustro e nuova linfa allo sport invernale nell'isola ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata